Le voci del coro Alpiretiche di Civo, diretto dal maestro Gioele Peruzzi e composto da cantori provenienti da tutta la bassa valle, allietano la serata conviviale della famiglia valtellinese di Roma, che come ogni estate riunisce i tanti valligiani e i loro discendenti che vivono nella capitale e che tornano nella terra di origine per trascorrervi le vacanze. Bello, bellissimo, siamo strafelici di questa serata di oggi, siamo contenti che le istituzioni ci hanno seguito, sono presenti numerosi sindaci, presenti anche le due banche valtellinesi, il vice prefetto di Sondrio, per noi è un grande onore festeggiare i nostri 50 anni nella nostra terra. Un ritorno a casa, gradito, ma mai come quest'anno. Tra le autorità presenti, gradito ospite anche Francesco Forte, economista, allievo di Ezio Vanoni e Luigi Einaudi, più volte ministro e parlamentare, legato alla valtellina da una lunga frequentazione, è stato anche sindaco di Bormio, che ha sottolineato l'amore per questa terra e i suoi rappresentanti. È un po' come prolungare la festa dei 50 anni celebrata a Roma. Sicuramente, è un anno di festeggiamenti, lo abbiamo detto anche in occasione della festa di Roma e proseguirà ancora fino ad ottobre con la nostra giornata autunnale che faremo sulle rive del Tevere e quella sarà la chiusura del cinquantesimo anno della famiglia. Anche quest'estate sulla costiera dei Cechi, in Valmasino e da altre parti le case si sono riaperte, tanti convaligiani sono rientrati per le vacanze estive qui da Roma in Valtellina. Come di consueto, ogni anno non si può mancare di venire in Valtellina, siamo sempre legati alla nostra terra e il mese di agosto è il mese clou in cui tutti rientriamo in valle. In occasione della festa estiva della famiglia valtellinese di Roma, l'associazione ha premiato Toni Corti, ex cineasta, autore di tante ricerche sulla storia dei valtellinesi nella capitale, come Valtellinese dell'anno. I proventi della lotteria annuale sono andati al progetto Tutti dappertutto delle associazioni Valtellina accessibile e tecnici senza barriere rappresentati da Walter Fumasoni e Francesca Rogna.